Ario mi ha dato, questa è per lui, per quelle palline che tiene, ha detto che sono solo perché si dorme sul duro. Ma lui dorme sul cuscino. Ah, sul cuscino. Ha detto che si appoggerà a terra. Una la mattina e una la sera a digiuno. E poi invece mi ha detto che lo sono fatto vaccinare. No, vaccinare sì, ma non dalla pizza. Dovevano controllare solo se hanno i vermi e hanno detto di no. Il discorso vaccinare è quello che dici tu, ma si dovrebbe fare di no. Sì, perché lo fanno loro il vaccino, quindi si risparmierebbe. Eh, me l'ha detto anche questo. Loro ne ha dato un giorno in più perché lui va a dire mangiare. No, no, no. No, no. Sì, non è vero, non è vero. Ma è il cane questo cane, non riesco a capire se si sta tampinando Leo per regolarlo, per calmarlo.